Lei pensa che Grillo faccia ancora bene ai 5 Stelle? Guardi, io sono talmente consapevole delle difficoltà di un grande partito di vivere e di vivere con discussioni interne, con dialettica interna, che l'ultima cosa che voglio mettermi a fare è quella di entrare dentro le dialettiche interne altrui. Quindi io faccio auguri sinceri a Conte perché riesca a portare avanti questo suo processo. E dopodiché decideranno loro la modalità migliore per... Le posso dire questo. Io con Conte, quando ci troviamo a discutere di che scelte fare, quali passaggi fare, abbiamo scelto insieme Napoli, abbiamo discusso insieme di Calabria trovando una soluzione buona, importante per la Calabria, trovo sempre una persona affidabile con la quale parlo, quello che mi dice è sì oppure no. Molti pensano che siete troppo simili che vi contendiate allo stesso elettorato. Ma no, non credo che siamo simili, siamo due persone in verità molto diverse, con esperienze politiche molto diverse e io penso che sia molto importante invece che agiamo in modo diverso, andando a fare cose differenti. Avete una cosa in comune, che entrambi siete caduti per mano di Renzi. Ma beh... Questo vi unisce. Ho capito, ma sono storie del passato. Andiamo avanti. Andiamo avanti, Marco.